La proroga di tre mesi del mandato delle regioni che sarebbero dovute andare al voto nel prossimo mese di maggio e quanto sarebbe contenuto nella bozza del decreto al vaglio del governo in queste ore che potrebbe essere approvato lunedì in consiglio dei ministri. La nuova finestra per andare alle urne nelle regioni chiamate al voto e tra queste anche la Puglia sarebbe dal 12 luglio al primo novembre. Alle urne in pratica si potrebbe andare in piena estate o all'inizio del prossimo autunno ma ci sono tre regioni Liguria Veneto e Campania che fanno pressing sul governo perché ci sia la possibilità di votare già il 12 luglio la prima data utile fissata dal consiglio dei ministri. In pratica i governatori di quelle regioni il prossimo 20 maggio potrebbero indire le elezioni fissando la data del 12 luglio per andare alle urne. Sul fronte pugliese invece il presidente Michele Emiliano ha scelto la strada del silenzio sull'argomento mentre pochi giorni fa il vice coordinatore pugliese di Forza Italia il senatore Dario Damiani si era detto favorevole all'ipotesi avanzata da Liguria e Veneto di votare in estate. Dal governo invece trappela l'auspicio perché le regioni e in seconda battuta anche i comuni dove si dovrà eleggere il sindaco del consiglio comunale e per i quali la finestra elettorale è stata fissata tra il 15 settembre e il 15 dicembre possano mettersi d'accordo su una sorta di election day in autunno nel quale far rientrare anche il referendum sul taglio dei parlamentari a sua volta rinviato. La situazione è in divenire e bisognerà sempre fare i conti con l'emergenza coronavirus. Se l'emergenza in estate dovesse peggiorare resta valida la possibilità di adottare ulteriori misure di restruzione e di fatto evitare che si voti in estate per le regioni.